10 anni è durato il purgatorio del Vare in serie B e per la partita decisiva contro il Verona erano saliti all'Olimpico in 30.000. Bastava un pareggio ai Galletti dopo la vittoria nella prima partita, ma hanno fatto di più, hanno battuto per 2 a 0 il Verona e hanno stravinto in campo e sulle tribune. Sventata da un acrobatico intervento di Magnanini l'incursione veronese. Sul calcio d'angolo sono in due a saltare di testa e a non colpire la sfera. Sempre nelle mani dei bianchi l'iniziativa, le azioni pericolose portano il loro marchio. Mischia sotto la rete veronese e a fatica la difesa dei Veneti riesce a districare la matassa. Chiuso a reti inviolate il primo tempo, spiaccato il Verona dalle azioni degli avversari in campo, ma soprattutto dal gran titolo dei 30.000 sulle tribune, il Bari assume deciso le redini della partita e parte l'attacco. Al 36esimo i Galletti passano, la testa di Erba salta più alta di tutte e il pallone è nel sacco. 1 a 0. 4 minuti dopo la stessa Erba raddoppia. La fumata bianca dopo 10 anni di attesa sale finalmente al cielo.